Quali sono gli spunti da trarre da questo incontro, da questo dialogo con Sua Eccellenza? Quali sono anche i progetti per il futuro in questi comuni del Casentino? Innanzitutto c'è questo bisogno della Chiesa di trasformarsi, di adattarsi al territorio che è sempre più difficoltoso, più difficoltoso per la mancanza di persone, per lo spopolamento dei paesi, ma anche per la mancanza di sacerdoti. E quindi c'è un bisogno da parte della Chiesa, insieme alle istituzioni, di fare corpo comune per cercare di combattere questa crisi, per cercare di rimuovere la coscienza verso quella solidarietà che, come ha ricordato anche il Vescovo, nei tempi difficili, nei tempi della guerra, ma anche nei tempi della ricostruzione, è stato l'elemento portante della nostra società. Il pubblico deve necessariamente fare la sua parte e dovrebbe tentare di farla sempre in modo migliore. Il problema è che, a mio parere, alcune famiglie, ma non sono tanto poche, sarà anche perché la situazione economica è quella che è, pensano che il pubblico possa sopperire anche a delle esigenze che invece, a parer mio, sono delle esigenze, soprattutto parla a livello educativo, prettamente private. Credo che, ecco, bisogna far passare nella mente dei ragazzi che, ecco, facendo il loro dovere di studenti, in qualche modo contribuiscono ad uscire dalla crisi.